Annullate tutte le manifestazioni pubbliche previste in questo periodo, è quanto deciso dal sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano dopo il tragico incidente di giovedinotte in cui hanno perso la vita il 18enne Vincenzo Pepe ed il 19enne Pasquale D'Agosto, originari di Roccadaspide. La morte dei due giovani ha letteralmente sconvolto il centro degli Alburni dove entrambi erano molto conosciuti. L'autopsia in programma per i prossimi giorni chiarirà tutti gli aspetti relativi all'impatto che ha portato al decesso dei due ragazzi.